Oggi per me è un giorno particolarmente importante perché per la prima volta svolgo le funzioni di questore, sono particolarmente innanzitutto grato al Signor Capo della Polizia, Direttore e Generale della Pubblica Sicurezza per avermi accordato questa fiducia, avendo lo svolgimento di questo delicatissimo compito, attribuendomi queste delicate responsabilità. Naturalmente sono contento perché ritorno in Calabria, una terra che ho imparato ad apprezzare, a cui sono particolarmente affezionato, avendo già svolto attività per 17 dei miei 31 anni di servizio. Posso evidenziare che si tratta di una positiva eccezione, perché a livello nazionale, le medie dell'età del personale è sicuramente maggiore. Il fatto di avere dei giovani tra le fila della Polizia di Stato in questa provincia è un fattore particolarmente positivo, perché si tratta di giovani che sono molto appassionati al loro lavoro, non lo dico io, ma lo dicono i numeri, le statistiche, sapete benissimo voi della stampa che la squadra mobile e le volanti sono particolarmente attive ed efficienti e da questi dati oggettivi potete desumere quale sia il livello di passione che anima i poliziotti di questa questura.